Compiva a Tiosceni su una panchina del lungo lago di Omenia e quando i carabinieri lo hanno portato in caserma ha tirato calci e resistito nuovamente in manette un marocchino di 42 anni già noto alle forze dell'ordine. Intorno al 19 di mercoledì sera seduto su una panchina in prossimità dei giardinetti e compiva a Tiosceni con i pantaloni slacciati e guardando le donne che passavano. A dare l'allarme chiamando i militari della stazione di Omenia sono stati due signori che hanno anche fermato delle ragazzine che stavano per passare davanti all'uomo risparmiando loro lo spettacolo indecente. I carabinieri giunti poco dopo lo hanno trovato ancora sulla panchina, sull'auto e poi in caserma ha insultato e minacciato gli uomini del comandante Paolo Puglisi cercando di colpirli con schiaffi e calci. E' scattato così l'arresto per resistenza pubblico ufficiale. Questa mattina è arrivato in tribunale per la convalida dell'arresto. Si tratta dell'uomo già finito in manette a gennaio mentre tirava sassi ai vetri delle cupole di Gravello Natoce. Liberato gli doveva essere assegnato un alloggio popolare a Madonna del Sasso ma lui non lo ha voluto, ha riferito di vivere in un capannone. La PM Anna Maria Rossi ha contestato oltre alla resistenza anche gli atti osceni in un luogo in cui passano minori e bambini e l'ubriachezza molesta chiedendo per lui la custodia cautelare in carcere. L'uomo come già l'altra volta dice di essere perseguitato perché qualcuno lo ritiene una spia del Marocco di temere per la sua vita. Il giudice Donatella Banci Bonamici ha convalidato l'arresto e lo ha mandato in cella.